La bellezza dei luoghi come strumento di unione e condivisione tra i popoli, come elemento trainante per uno sviluppo sostenibile, come matrice identitaria comune per costruire insieme un nuovo orizzonte di pace e solidarietà. Parte da Cisternino, già membro dell'esclusivo club dei Borghi più belli d'Italia, il percorso che porterà alla nascita di un progetto più ampio e ambizioso, quello della creazione della rete dei Borghi più belli del Mediterraneo. Nella cornice del Teatro Comunale Paolo Grassi, al cospetto dei rappresentanti di ben 15 delegazioni provenienti dall'intero bacino del Mediterraneo, dalla Croazia alla Russia, dalla Turchia a Libano, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa che sancisce di fatto l'attivazione della nuova rete di Borghi alla presenza dei partner del progetto Unione Europea, Regione Puglia, i Borghi più belli d'Italia, l'Anci, il Gal Valeditria e l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Un progetto che si avvale oggi anche della medaglia del Presidente della Repubblica. A fargli onori di casa, il Sindaco di Cissernino, Donato Baccaro, è il Presidente dei Borghi più belli d'Italia, Fiorello Primi, pronti ad apporre la firma in calcio al documento alla presenza dell'assessore regionale al Mediterraneo, Silvia Godelli, e del Presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna. Noi siamo impegnati innanzitutto nel coinvolgere questi paesi del Mediterraneo che diversamente non avevano questa possibilità. Oggi la stiamo dando a loro con la visione che in un domani possono entrare, non solo riuscire a far creare all'interno dei loro paesi una rete dei borghi più belli d'Italia, ma anche poter entrare nell'associazione mondiale del più buon villaggio della Terra. Quindi per loro è un'opportunità molto forte e pertanto sono entusiasti di questo, quindi sicuramente questa sarà la prima conferenza, ma ormai notiamo che c'è un interesse di tutta l'area del Mediterraneo e secondo me l'anno prossimo avremo anche tanti paesi del Nord Africa. Grazie a tutti.